RACULT 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 Si dò, che si dò, che si dò, anche per giù. Questo è tratto ovviamente da Acapulco, Ultima spiaggia a sinistra, è il tema, ma ne hanno fatti molti altri di film. E chi, meglio del nostro Schiavi, può elencarceli per fare un piccolo riassunto, mentre i nostri amici vanno a riconquistare... Schiavi, fammi sapere. Sono qua, per voi. Gigi e Andrea debuttano al cinema supportando Adriano Celentano in uno dei due episodi che compongono qua la mano di Pasquale Festa Campanile 1980. Due anni dopo diventano protagonisti nei Camionisti, di Flavio Mogherini. Ma i film che li consacrano come Vitelloni, anni Ottanta, della Riviera Romagnola, sono firmati da Sergio Martino. Acapulco, Prima spiaggia a sinistra, e se tutto va bene siamo rovinati. Seguono L'allenatore nel pallone, con Banfi del 1984, Mezzo destro e Mezzo sinistro, due calciatori senza pallone, 1985. Doppio misto, divertentissimo film con Tini Cansino, Silvio Spacesi del 1986. Poi ci sono quei film in cui Gigi e Andrea, pur apparendo nella stessa pellicola, non formano più la coppia comica. È il caso dei Pompieri, 1985 di Neri Parenti, e di tre film del 1987, Rimini Rimini di Sergio Corbucci, in cui recitate in due episodi differenti. San Marchi ha a che fare con Eleonora Brigliadori e tu roncato con Elvira Odre. Poi c'è Il Lupo di Mare, in cui il mattatore assoluto è roncato, su una nave da crociera, in mezzo a donne nudissime, bellissime. San Marchi è un po' più defilatino. E poi c'è un film un po' sfortunatello di Alberto Bevilacqua. Tango Blu? No, 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 andiamo avanti. Come andiamo avanti? Ma quanto è dura? Ho finito, un'ultima cosa, Roncato prosegue intensamente l'attività cinematografica anche negli anni 90 e anche in questi ultimi anni, senza Gigi, io citerei Ne parliamo lunedì di Luciano Odorisio, in cui dai una bella prova recitativa accanto a una intensa Elena Sofia Ricci. Il succo, il succo di tutto questo è nella frase che ci do, che ci do, che ci do. Che li racchiude tutti. Hai dimenticato Avati che citerei. Aspetta che Valina Avati. Beh è una cosa recentissima, noi parliamo di... Avati è una cosa recente. E io ci do, che ci do, che ci do. Valentina su che ci do, che ci do, che ci do. È sempre piaciuta lui questa frase. Mi sembra piaciuta lui. Beh certo, era una bomba allora, allora era una bomba, ora diciamo è una cosa antica. Ci sono alcune cose nostre che usano, tipo oiii, ci do, che ci do, che ci do, questi, quando vogliono fare il bolognese... E che ci do, è una cosa volgare, hai capito? Perché lui era celebre come uno stallone italiano. No, non è vero, non ho mai fatto... Uno stalloncino. Uno stalloncino. Un vitello. Un vitellino. Tornato.